E' mio allora? Oh, Laura! Tu non me l'avresti detto, vero? Perché era l'unica soluzione? Che significa non hai più fiducia in me? Avevo paura della tua reazione, che ti saresti intromesso tra me e Gregory. Ma certo, quindi me l'avresti nascosto per tutta la vita. Credi che per me sarebbe stato facile? Pensavo che fosse la cosa migliore da fare. Per te fosse, ma non per me. Io avevo il diritto di saperlo. Non volevo perdere Gregor, non lo capisci? Lui era riuscito a perdonarmi per quello che abbiamo fatto. Questo non c'entra niente. Volevi prevarmi di mio figlio, Laura. Ma io crescerò questo bambino con Gregor? Perché farlo insieme a te sarebbe impossibile. Quello che io non capisco è perché tu non mi abbia detto niente. Sono l'ultima persona che vorrebbe vederti infelice. Se non vuoi che sia infelice, prova a perdonarmi. Ti prego. Tu mi hai mentito. Tu. Volevi nascondermi l'esistenza di mio figlio. È terribile. Sai come mi sento ora? Svuotato. Non pensavo fossi capace di una cosa simile. È finita. Non mi perdonerà mai. Sa che intendevo nascondergli che è il padre di mio figlio. Io volevo solo fare la cosa giusta. Per il bambino e per... Che cosa farà ora Alexander? E come potrò dire a Gregor che... Che Alexander conosce la verità? Mi ha perdonata solo perché ho promesso che non l'avrebbe mai saputa. Mi lascerà, ne sono sicura. Che ne sarà di me? È tutto finito. Probabilmente li ho persi entrambi. Avanti. Ciao. Ho finito un po' prima e volevo chiederti se ti va di fare una passeggiata. No. Che è successo? Non ti senti bene? Avevi ragione. Su cosa? Sul bambino. Sul bambino di Laura, insomma. Sono io, il padre. Chi te l'ha detto? Laura. Ha deciso lei di dirtelo? No, ma non le ho lasciato altra scelta. L'ho affrontata direttamente e alla fine è stata costretta a confessarmelo. E ora che vuoi fare? Secondo me dovresti... non fare niente. Chissà perché pensate tutti di sapere quale sia la cosa migliore. Tu e Laura siete fratelli. Non potete rendere pubblico che state per avere un figlio. Allora che dovrei fare, eh? Comportarmi come se la cosa non mi riguardasse? Esatto. Non puoi certo riconoscerlo. È un'idea assurda. Faresti scoppiare uno scandalo e vedi che... Questo lo so, ma come deciderò di comportarmi è una mia scelta. Ok? Ti dicevo solo la mia opinione. In fondo anche noi due siamo legati. Scusami. Scusami se ho alzato la voce. Ascoltami. Dimmi. Non dire a Gregor che l'hai saputo da me. È questa la tua preoccupazione? Non posso crederci. È meglio che vada a prendere un po' d'aria. Maledizione. Gli hai detto la verità? Non avevo scelta. Me l'ha chiesto direttamente, capisci? Cosa dovevo fare? Sì, ma noi avevamo un accordo. È che mi ha messa alle strette. Non potevo mentire ancora. Io non glielo volevo dire, davvero, ma non sono riuscita a evitarlo. Ti ho deluso, lo so. Laura, non si tratta di questo. È solo che non so come faremo ad affrontare questa situazione adesso. Alexander si intrometterà nella nostra vita. Ma perché non ho detto di no, semplicemente? Non rimproverarti troppo. Capisco che non sia facile vivere nella menzogna. Ci sono passato anch'io, so che cosa provi. Tu hai preferito la prigione piuttosto che continuare a mentire. Davvero non sei arrabbiato? Non con te. Con Alexander? Posso immaginare che abbia fatto nascere in lui dei sospetti. Credi che gliel'abbia detto Ellen? Chi è altri, se no? Ora che facciamo? Pagherà per quello che ha fatto. Parlo di Alexander. Se vuole riconoscere il bambino, che possiamo fare? Gli parlo io. Toccherebbe a me. Per farti mettere di nuovo alle strette? No, cercherò solo di fargli capire che deve accettare la nostra decisione nel suo e nel nostro interesse. Speriamo che ti ascolti. Siamo noi i genitori di questo bambino, nessun altro. Siamo noi la sua famiglia. Non esistono altre soluzioni. Io amo te e amo il tuo bambino. Non è cambiato assolutamente niente. Siamo noi i genitori di questo bambino. Siamo noi i genitori di questo bambino. Allora... Noi due non possiamo stare insieme perché mio padre... Mio padre è anche tuo padre. Ma che cosa stai dicendo? Peter è mio padre. No, no. Noi siamo fratelli. È tutto ok. Hai fatto soltanto un brutto sogno. Sta tranquilla, tesoro. Hai sete? Hai. 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 Tu e Laura non potete amarvi. Laura è tua sorella. No. Non mi perdonerà mai. Lo so. Lo so. Lo ho tenuto nascosto che aspetto suo figlio. È facile per lui fare la vittima ora. Ma in fondo non può rimproverarti nulla. Dovrebbe provare a mettersi nei tuoi panni. Che cos'altro potevi fare? Non sono più così sicura della mia scelta. Laura, senti. Non devi mettere tutto in discussione. Tu hai fatto solo quello che ritenevi giusto. Non hai colpa. La domanda è cosa fare per sistemare le cose. Se conosco bene, Alexander non si arrenderà. Lotterà per questo bambino. Se fosse una persona ragionevole, non farebbe proprio niente. Non muoverebbe un dito. Eh, tesoro. Da quando Alexander è una persona ragionevole se ci sei di mezzo tu? Ma deve pur rendersi conto che solo con Gregor posso dare una famiglia al bambino. È così evidente. E lui avrà un figlio da Ellen. Sì, ma non può certo sostituire il tuo, lo sai. Lui con quella donna non riesce a essere chiaro, ma è ovvio che sei tu il suo grande amore. Ed è impossibile che scelga di ignorare che stai per dargli un figlio. Ho paura che la mia relazione con Gregor sia distrutta. Non disperare. Gregor ha già dimostrato di amarti veramente. Sento che non ti abbandonerà, sta tranquilla. Ma se Alexander lottasse per suo figlio, so che perderei Gregor. È che Alexander lo fa in bestialire. Vuoi che provi a parlargli? Ti ringrazio, ma Gregor ora sta andando da lui per cercare di farlo ragionare. E tu? Credi che sia la scelta giusta? Non ne ho idea, ma se non ci riesci, non so quante speranze ci rimangano. Ok. Non pensarci più, cerca di calmarti, per favore. Non ti devi agitare, non fa bene né al bambino né a te. Prova a pensare ad altro per un po'. Impossibile. E invece no, potresti pensare ai pasticci che combinano gli altri, per esempio. Hai ragione, dimmi qualcosa di te. Devo servire a distrarti, eh? Allora, ci sono novità? Sì. In effetti, ieri ho passato una serata meravigliosa con una certa persona. Sul serio? Oh, è fantastico. Sai qual è la cosa migliore? Che sia tornato a lavorare in albergo. Magari tutto tornerà come prima, insomma. Stiamo facendo grandi progressi in questa direzione. Pensi che ce la farete? Siamo sulla buona strada. Questo significa che c'è sempre speranza su con la vita, d'accordo? Avanti. Buongiorno. Ti posso parlare un momento? Ho molto da fare. Mi spiace. È una cosa importante. Riguardo a Laura, ok? Lei ha deciso di crescere il suo bambino con me. Ti prego di accettare la sua scelta. Fallo per lei. Sono abituato a prendere da solo le mie decisioni, chiaro? Capisco che per te non sia facile, ma questa è la soluzione migliore per noi tutti. Per favore, con chi pensi di avere a che fare? Voi mi avete mentito, non avete esitato a ingannarmi e ora dovrei farmi da parte, è così? Proprio tu parli di bugie e di inganni dopo quello che è successo e io allora che cosa dovrei dire? O credi che il fatto che la donna che sto per sposare sia andata a letto con suo fratello e stia per dargli un figlio non mi disturbi? Per favore, smettila. Io l'ho perdonata, perché la amo e amerò suo figlio come se fosse mio, Alexander. E ti aspetti che reagisca come se la cosa non mi riguardasse? Non pretendo che tu lo faccia per me o per Laura, ma per il bambino è la cosa migliore, credi? Ah, davvero? Decido io cos'è meglio per mio figlio se non ti spiace. Vuoi veramente che tuo figlio sappia la verità? Vuoi che i suoi amici sappiano che i genitori sono fratello e sorella e lo prendano in giro? Per Laura la situazione è tutt'altro che facile. Prendere questa decisione è stato un tormento. Ma alla fine si è resa conto che ho ragione. Un momento, è stata una tua idea. Laura non voleva, tu l'hai convinta. E poi vieni a dirmi che l'ami.